Aveva cresciuto una serpenseno Don Lazzaro Longobardi, ucciso a colpi di sprangate la sera di domenica scorsa nel cortile antistante alla chiesa di San Giuseppe di Sibari. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, in collaborazione con i comandi di Corigliano, Cassano, Eiris e l'Ottavo e l'Inucleo, hanno infatti fermato su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Castrovilla di 40, come maggiore indiziato dell'omicidio, un cittadino romeno, Nelus Dudu, di 26 anni, residente a Cassano e che il prete aveva aiutato in tutti i modi da quando il 26enne, 4 anni prima, era giunto in Italia dalla Romania. I particolari del fermo sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel comando provinciale di Cosenza. L'accusa per Dudu e di omicidi e distorsione erano diventate pressanti infatti le richieste di denaro che il giovane inoltrava l'indirizzo del prete nell'ultimo periodo, anche minacciandolo di diffondere una voce di relazione omosessuale tra i due, risultata assolutamente infondata dalle investigazioni dei militari dell'arma. I rapporti tra i due si erano inclinati nel momento in cui Don Lazzaro si era reso conto che il giovane si era resa autore più volte di furto di denaro, prima nella casa dello stesso sacerdote in cui spesso veniva ospitato rubando una somma di circa 4.000 euro e poi dalle offerte lasciate dai fedeli nel corso della messa portando via in un episodio 20 euro. Tutto era precipitato però domenica pomeriggio quando al culmine di un'ennesima discussione tra il prete accompagnato da un altro giovane rumeno col quale Don Lazzaro era in buoni rapporti e di fiducia, l'assassino aveva litigato con il connazionale che di fronte alle minacce rivolte al sacerdote si era schierato dalla parte di Don Lazzaro finendo con la rivale alle mani con quello che si sarebbe rivelato poi l'assassino del parroco. Dudu sarebbe ritornato la sera a chiedere spiegazioni ulteriori a Don Lazzaro che aveva atteso nel cortile finendo con l'ucciderlo di fronte ad una risposta negativa. Una spranga di ferro usata per le recinzioni, l'arma utilizzata per ucciderlo e con una violenza tale da colpirlo al morte già alla prima sprangata. L'indagine chiaramente è ancora in sviluppo perché la soluzione così rapida chiaramente non ci ha dato la possibilità di sviluppare alcuni accertamenti di carattere tecnico-scientifico che sono necessari e che dovrebbero confermare il quadro indiziario che abbiamo raccolto questa notte unitamente al dottor 40 della procura di Castrovillari. Si può dire se si è trattato di un omicidio premeditato oppure no? No, in questo momento non ci sono le condizioni. Diciamo che probabilmente è stato premeditato nel senso che doveva essere un chiarimento fra il prete e colui che l'ha ucciso. Si è giunti all'individuazione dell'autore dell'omicidio grazie a decine e decine di testimonianze raccolte da cui è emerso un privato ineccepibile senza macchia del sacerdote, ma ad avere grande peso il racconto di un cittadino straniero che ha dato conto di alcuni particolari, tra cui l'uso di dudù di una bicicletta per raggiungere la chiesa sul sellino della quale sono state rinvenute tracce matiche così come su alcuni indumenti ritrovati in casa dell'assassino con il vizietto di acquistare abbigliamento griffato. Ad incastrarlo definitivamente i tabulati telefonici spezionati da RIS di Roma che hanno mostrato l'incongruenza degli spostamenti e delle chiamate con il racconto reso da Dudu.